Centinaia di arresti alla manifestazione dei No-Mask contro le restrizioni anti-Covid a Berlino. La polizia è ricorsa agli idranti per disperdere la folla che si era radunata alla porta di Brandeburgo. Se le disposizioni come l'obbligo della mascherina al distanziamento fossero state disattese in modo consapevole, il raduno andava sciolto, ha dichiarato la ministra della giustizia, Cristina Lambrecht, ai quotidiani del Funke Media in gruppe. Lo Stato deve mostrare che ha il monopolio della forza in questo paese. Non può essere che lo Stato si rassegni quando molti manifestanti vengono a infrangere consapevolmente le regole, ha detto ancora la ministra. La polizia berlinese ha aperto gli idranti per la prima volta dopo anni, tuttavia solo con un getto leggero, scrive Die Welt.